Si appella niente meno che all'ONU, precisamente all'articolo 1 della dichiarazione sull'ambiente umano, il documento firmato da più di 30 associazioni cremonesi, ma anche Ludigiana e Piacentine, in solidarietà con il Comitato di Crotta d'Adda. Occorre infatti ripartire dai principi fondamentali della civiltà umana e precisamente dal diritto riconosciuto dalle Nazioni Unite a un ambiente che consenta di vivere nella dignità e nel benessere per cercare di ribaltare le politiche dell'amministrazione provinciale cremonese e quindi fermare il progetto di compostaggio di sfalci verdi della ditta Sovea. A Crotta infatti verrebbero raccolti gli sfalci e prodotto cippato destinato a venire arso secondo le previsioni nella centrale a biomasse legnose di Castelleone, impianto già autorizzato sul quale gravano ricorsi altare al Consiglio di Stato da parte del Comune di Castelleone e da più di 20 aziende della zona. Si tratterà di un inceneritore autorizzato in una zona dove il superamento della soglia d'allerta delle polveri sottili PM10 è la normalità da 20 anni. Ieri nella vicina Soresina le PM10 hanno toccato quota 40, Cremona e Invia Fatebene Fratelli sono arrivate a 39, quando la media giornaliera annua per l'Unione Europea non può superare 40. Crotta, dove l'adesione al Comitato rappresentano la quasi totalità della popolazione, non accetta le continue addizioni di forme di inquinamento atmosferico e olfattivo, oltre all'intensificarsi del traffico. Una reazione popolare tale da convincere numerose associazioni a unirsi per la prima volta per ottenere una migliore pianificazione territoriale. Se ne parla stasera alle 21 nella Sala Eventi di Spazio Comune in un incontro pubblico, mentre a Crotta il Comitato organizza per domani la mostra fotografica quale futuro con immagini di Giuseppe Boiocchi e Giuseppe Bragalini. Nella Sala Polivalente di Via Maris le fotografie rappresenteranno l'ambiente con dei bambini in movimento per dare il messaggio inquietante che potrebbero sparire se l'inquinamento non troverà ostacoli.